Bentornato Goodlier, bentornata! Andiamo avanti nella descrizione di Windows 8.1 Update continuando a vedere la descrizione delle funzioni che si aprono tramite il pulsante Start di Windows e ora parliamo di gestione attività. È un programma integrato da sempre nel sistema operativo, chiamato anche Task Manager in precedenza, che è utile per gestire e controllare i programmi attivi nel computer e non solo. Evidenzia le applicazioni, i processi, i servizi del sistema operativo che stanno lavorando, quindi sono attivi, e tutto in tempo reale. È utile anche per tenere sotto controllo le prestazioni del computer ed in caso di necessità per poter chiudere il programma che non dovesse rispondere, che bloccasse il PC appunto. Puoi partire nella cultura dalle lezioni 66-67 con i rispettivi videotutorial dove troverai le spiegazioni relative all'equivalente programma ma in Windows 7. Come si avvia? Ci sono varie possibilità. La prima, posizioni il mouse sulla barra delle applicazioni e, cliccando con il tasto destro del mouse stesso, dal menu che si genera, scegli appunto gestione attività. Seconda alternativa è premere in sequenza i tasti CTRL, maiuscolo ed ESC. Ancora, cliccare con il tasto destro del mouse sul pulsante Start e dal menu trovi appunto gestione attività. Ancora, dalla barra di ricerca cerca appunto gestione attività. Infine, dal menu Start scorri finché trovi il pulsante relativo per avviarla. Cosa vedi? Questa è una sezione molto avanzata per le nostre capacità in quanto presenta alcune sezioni che vanno nel profondo del sistema operativo. Troverai diverse sezioni. Il primo, denominato processi, poi prestazioni, cronologia applicazioni, avvio, utenti, dettaglio ed infine servizi. In realtà sono molti di più in quanto all'interno di queste sezioni puoi accedere ad altre sezioni del sistema operativo. Partiamo con il primo processi. Questa sezione evidenzia tutti i processi attivi nel sistema operativo e soprattutto quelli in background, ossia nascosti. Qui una rappresentazione tramite uno screenshot. Presenta varie colonne. Il nome del processo, la percentuale della CPU utilizzata, la percentuale di memoria RAM che il processo sfrutta, ancora, la percentuale del disco rigido che il programma usa e percentuale di banda che sta utilizzando lo stesso. Puoi ordinarli per ognuno di questi parametri. Se ti necessita, puoi chiudere il processo cliccando semplicemente sopra lo stesso e premendo il tasto cancio sulla tastiera oppure cliccando col pulsante termine attività in basso a destra della finestra aperta. Altra sezione prestazioni. Come puoi vedere da questo screenshot, permette di visionare le prestazioni impiegate dal tuo hardware, ossia processore, memoria, i vari dischi rigidi, le reti e quant'altro. Selezionando il parametro hai una rappresentazione grafica in tempo reale oltre che numerica. In basso trovi anche un pulsante che serve per avviare il monitoraggio delle risorse, qualora ti servisse. Un ambiente quest'ultimo dedicato all'hardware e molto molto particolareggiato di informazioni. Roba da verderci la testa. Altra sezione cronologia applicazioni. Molto semplicemente ti evidenzia la lista delle applicazioni che hai utilizzato recentemente con i parametri relativi al loro impiego. Con il tasto relativo puoi eliminare la lista quando e se vorrai. Qui lo screenshot che rappresenta una lista generica. Altra sezione avvio. Molto utile per conoscere quali programmi si avviano in automatico all'accensione del computer insieme al sistema operativo. Oltre a nome e autore, individui se il programma è abilitato o meno, quindi potrai cambiare nello stato. E anche l'impatto relativo all'avvio in modo da poter decidere se lasciarlo inalterato, ritardarlo oppure addirittura disabilitarlo. Altra sezione utenti. Qui naturalmente c'è evidenziata la lista degli utenti che utilizzano il PC e i programmi utilizzati con le relative risorse sfruttate. Naturalmente se c'è solo un utente avrai soltanto un nominativo. Dettagli rappresenta un mondo di dati. Mostra tutti i dettagli relativi ai processi che sono attivi o no nel sistema operativo. Accanto al nome o la sigla troverai un numero identificativo chiamato PID che indica il numero con cui viene etichettato il processo e il programma. Lo stato indica naturalmente se è in esecuzione o è arrestato. Il nuovo utente evidenzia se il processo è relativo al solo account oppure è un processo del PC o del sistema operativo. Poi troverai la percentuale di CPU e di RAM utilizzate ed infine una descrizione del processo per renderlo abbastanza comprensibile anche se non sempre accade ciò. Anche qui potrai interagire con il processo selezionandolo e terminando lo stesso. Ultima sezione, i servizi. Qui invece c'è molto molto di più rispetto ai dettagli. Evidenzia la lista dei servizi presenti nel sistema operativo. Nelle colonne troverai il nome abbastanza incomprensibile con relativo codice identificativo un'utile descrizione del compito svolto dal servizio successivamente lo stato se in esecuzione oppure è fermo e arrestato e che quindi puoi cambiare qualora ti servisci o meno ed infine il gruppo a cui appartiene il servizio se è un servizio locale, se è un servizio di rete, di ottimizzazione, ecc. In gestione attività, oltre queste sezioni trovi in alto tre scritte File, Opzioni, Visualizza. La prima ti permette di uscire dal programma oppure avviare una nuova attività seguendo il comando che già conosci, comando Esegui, che hai visto nella lezione 155 e rispettivo video tutorial. Nella sezione Opzioni imposti la scelta dello stato di visualizzazione della finestra del programma gestione attività. Puoi mantenere la finestra in primo piano anche se hai aperto altri programmi oppure potrai scegliere di ridurlo ad icona nascosta nella Sistray oppure nella barra delle applicazioni se dovessi minimizzare la finestra. Puoi anche scegliere di visualizzare il nome completo dell'account che utilizza il PC. Infine con Visualizza sono semplici scelte di visualizzazione per la finestra che è attiva in quel momento del programma e la velocità di aggiornamento dei parametri rappresentati. Come puoi notare questa sezione è molto vasta e puoi veramente impiegare moltissimo tempo per apprezzarla e studiarla se vorrai. Questo è utile in particolar modo per diagnosi e ottimizzazioni accurate. Bene Google andiamo a vedere come si avvia gestione attività. Esempio più rapido barra delle applicazioni tasto destro gestione attività eccola qui rappresentata in pieno. Chiudiamo. Altra possibilità sfruttando la tastiera tramite la sequenza di tasti CTRL, MAIUSC e ESC ecco lo stesso risultato. Ancora dal menu start cliccando con il pulsante destro trovi appunto gestione attività. Ancora dalla sezione cerca scrivi semplicemente gestione attività quando compare potrai avviarlo. Ultima possibilità dal menu start massimizziamo il numero di icone spostiamoci nella zona relativa ai sistemi Windows e qui troverai gestione attività. Una volta aperto si presenta come l'insieme di varie sezioni che man mano andremo a vedere. Nella prima sezione processi trovi evidenziati tutti i processi che sono attivi nel sistema operativo in questo caso nel mio computer. Hai indicazioni relativi alla percentuale totale e parziale che il relativo programma impiega. Stesso discorso per la memoria come puoi vedere attualmente il processo di registrazione utilizza abbastanza memoria. La percentuale di disco che viene utilizzata in questo caso e la percentuale di rete in questo specifico momento non sto navigando perché sto registrando questa lezione. Puoi anche ridurre il numero di dettagli se tu vorrai. Ogni programma che è evidenziato può essere chiuso semplicemente cliccandoci sopra e cliccando sul pulsante termina attività oppure premendo il tasto canci. Come puoi vedere è stato rimosso. Dove trovi i programmi accanto a una freccia significa che hanno anche sotto sezioni per migliorare eventualmente la comprensione di ciò che sta eseguendo il programma. Puoi decidere anche di ordinare questa lista in base al nome per ordine alfabetico naturalmente suddiviso per categoria oppure per consumo di CPU di memoria di disco e quindi in pratica a seconda di come piace a te. La seconda sezione prestazioni ti permette tramite una grafica e dei numeri ottenere informazioni utili all'impiego dell'hardware del tuo computer sotto forma grafica e sotto forma numerica fornendoti dei dati che possono tornarti utili. Qui trovi anche il pulsante apri monitoraggio risorse che avvia naturalmente il monitoraggio delle risorse del computer e come detto è un mondo abbastanza popolato di informazioni. Puoi scegliere di evidenziare il tipo di hardware che devi monitorare in base alle tue necessità puoi decidere di evidenziare tutti questi parametri tramite una piccola finestra in dettaglio che puoi tenere parcheggiata mentre svolgi altre operazioni puoi nascondere i grafici da questa sezione o copiare i parametri. Altra sezione cronologia applicazioni hai semplicemente la lista delle applicazioni che sono state utilizzate di recente ed eventualmente potrai eliminare questa cronologia azzerando tutti i parametri la sezione avvio indica quali programmi si avviano contestualmente all'accensione del computer e oltre al nome e l'autore che genera che produce questo programma trovi anche lo stato che puoi naturalmente variare tramite il pulsante a destro per poter individuare meglio l'utilizzo ed eventualmente anche l'impatto che esegue questo singolo programma all'accensione del computer tramite il pulsante proprietà ottieni le informazioni relative al programma stesso mentre tramite apri percorso file andrai ad individuare dove è posizionato l'eseguibile altra sezione utenti naturalmente a questo computer collegato solo il mio account e troverò la lista dei programmi che sto utilizzando con il relativo impiego di risorse la sezione dettagli evidenzia una vastissima lista di dettagli relativi ai programmi che si stanno utilizzando molto più completa rispetto a quella che si ottiene in questa sezione anche qui puoi ottenere informazioni utili per vedere se il processo è in esecuzione o eventualmente è fermo potrai decidere di terminare l'attività con tutti i processi connessi impostare una priorità del processo se è normale oppure migliorarla o rallentarla e altri parametri relativi al processo che avrai selezionato oltre al nominativo troverai un numero identificativo del processo stesso lo stato di esecuzione come detto e il nome utente ossia colui che utilizza il processo se l'utente oppure se è un programma utilizzato dal sistema o se è un servizio di rete o locale la percentuale di utilizzo dei processori la memoria impiegata ed infine eventualmente tornasse utile anche una breve descrizione del programma ultima sezione servizi qui trovi listata tutta la vasta schiera dei servizi presenti e attivi o meno nel sistema operativo anche qui un nome abbastanza incomprensibile un identificativo del processo la descrizione che ti potrà tornare utile se vorrai disabilitare questo servizio se il processo è arrestato in esecuzione e potrai anche cambiarlo quindi avviarlo o riavviarlo se fosse arrestato oppure arrestarlo se è in esecuzione e il gruppo la categoria in pratica di appartenenza del servizio sia esso di ottimizzazione servizio di sistema o di rete nella sezione gestione attività trovi anche il pulsante file che ti permette o di uscire dal programma o eseguire una nuova attività tramite il comando esegui già visto nella lezione 155 il pulsante opzioni puoi decidere se mantenere in primo piano la finestra del programma oppure ridurla ad icona nella barra di applicazioni oppure nasconderla nella sysray se appunto la riduci ad icona l'ultima sezione visualizza ti permette di aggiornare lo stato di visualizzazione della finestra la velocità di aggiornamento se aumentarla oppure mantenerla normale ed abbassarla o ancora metterla in pausa e altre informazioni di visualizzazione come il raggruppamento per tipo come abbiamo visto nella sezione processi o semplicemente l'espansione totale senza la suddivisione in categorie puoi decidere anche di espandere tutto quindi aprire tutte le sottosezioni oppure comprimere e avere la visualizzazione soltanto del processo padre se ti trovi nella sezione utenti qui puoi anche impostare la visualizzazione del nome completo dell'account qualora fosse un nome più lungo come puoi vedere un'ampia sezione di gestione delle varie attività presenti all'interno del tuo sistema operativo bene nella prossima lezione ancora informazioni riguardo questa sezione del pulsante start ora un forte saluto ciao a presto da calo e dalla prossima